Mi hanno curato per tossicodipendenza, mi hanno curato di tutto, guarda. Pure. No, loro no, eh. Ma anche a noi ci conviene andare avanti e poi facciamo quella dopo. Spampi! Spampi, no, ma facciamo quella dopo che sale dall'impiccato. Facciamo quella dopo. Ma il posto è andato su di qua. Eh, ma dopo è da scendere, quindi lasciala stare questa. Facciamo quella dopo di là. Facciamo quella là. Tanto io te lo trito lo stesso, eh. Ma che cazzo c'è? Dai solo attento là, se scendi di là, eh. Diretto o di lato? È uguale. Di là devi solo stare attento quando scendi con il davanti. Ok, ok, ok. Sì, sì. Sento, certo. Di qua devi farla così. Metti giù il davanti e poi scendi. Sì, sì. Metti giù il davanti e poi scendere. Vai, vai, lasciala correre. Lasciala correre. Lasciala correre. Lasciala andare. Sì, sì. Ti ripresa. Mi scendi, ho calcadino. Sì, sì. Sì, sì. Grazie. Spoggia di là e lasciala andare. Spoggiala. Via, lasciala andare giù. Perché non la fai mai di là, tu? Perché non la fai di là? Sono togliato di qua. Eh, ma di là è più facile. Eh, allora, perché tu non sei passato di qua. Io passo di lì. Non mi piace di qua. A salire vado di lì. A salire per forza. Lasciate andare con il davanti, perché se tocchi con il davanti qua... Lasci il cuore. Se tieni passato con il caso, ora lo lento. È montesa! è montesa è stupido così qua e ogni volta che piove la loia tutta ancora mi sono dato però bene che muovo il cane prima che questo mi fa cadere